l'ultima del convegno quattro anni di minima sul miglio su Victoria numero due sale Di Nardo Gaetano su Valle Nordfro dodici sale Giorginio e non ancora Witsi Kraft che aveva il quindice netto favorito l'uno Veri di Casei con il buon Jenny Amitrano arretratissimo Vulcano imitato da Betty Ver via la macchina parte piano Veri di Casei litigano a partire all'attacco della piegata con Veliero nei confronti di Victoria Abril l'undici a tabellone 13 e due a partire per l'arrivo di Marcello De Nicola che guida liberamente al completamento della piegata si fa notare Velarda con il buon di Vincenzo 429 e davanti alle tribune Beliero Velarda di dentro Victoria e via via tutti gli altri 600 nell'ordine del 43 e 6 e cavalli che affrontano la piegata gruppo molto compatto Veri di Casei trova traffico infinito ma non è che va molto avanti 58 59 e cavalli che affrontano il penultimo rettilineo ora Veri di Casei nella scia la seconda pariglia cavalli di fronte il chilometro se ne va in 14 8 posizione da sparo per Veri di Casei che punta in avanti e viene via bene Veri di Casei agguanta Veliero 400 alla meta 14 3 29 1 i tre quarti di miglio vantaggio di Veliero ora è sostenuto l'errore del 2 Victoria poi c'è Valerio San tenta l'allungo Veliero ma ci prova Veri di Casei a largo di tutti arriva a bombi il 5 di Viola degli Ulivi Viola Viola è l'aeroporto in prova cerca ma sul palo tre cavalli sulla stessa linea con Veliero che probabilmente mantiene un piccolissimo vantaggio dal numero 5 Viola degli Ulivi vedete probabilmente è così e terzo abbiamo detto è l'uno di Veri di Casei quarto il 9 di Valerio San conservate bene i biglietti 1 59 2 1 14 e mezzo ricordandovi ancora un record di un tre anni della fucina Minopoli Zaren Fass sul doppio chilometro 13 e mezzo saluto Pierfrancesco e Valerio e vorrei ricordare ancora una volta un grande amico che ci ha lasciato un grande appassionato che era Angelo della Rocca buonasera a tutti a domenica da Napoli Emilio come al solito special e parla un grande appannone api evitamentro api Grazie a tutti.